Ben tornati a Football Benchmark, benvenuto, ben trovato anche ad Andrea Sartori, Global Head of Sports di KBMG. Ciao Luca, buonasera ai telespettatori. Allora Andrea, oggi ci vogliamo soffermare su una figura chiave nel mondo Milan e nelle potenzialità che può avere il suo ingresso recente in società. Parliamo di Ivan Gazzidis, perché per fare un breve riassunto il Milan ha cambiato proprietà, nel cambio di proprietà c'è stato naturalmente anche un cambio di dirigenza, fra i dirigenti c'è appunto Gazzidis che ha 54 anni, viene da un'esperienza molto lunga con l'Arsenal, precedentemente aveva lavorato con la MLS e noi vogliamo cercare di capire, visto che l'obiettivo di Elliot è un obiettivo ambizioso, è quello di riportare il Milan in Champions League, ma soprattutto di riportarlo nell'elite europea, c'è bisogno non soltanto dei risultati sportivi ma anche di quelli economici e Gazzidis è chiamato a rispondere a questi risultati economici e per cercare di capire quello che può fare Gazzidis al Milan abbiamo chiesto a te e quindi a KBMG di aiutarci a capire quello che aveva fatto all'Arsenal, perché l'Arsenal è stato, correggimi se sbaglio, 9 anni e 95% in più di commercial dall'inizio della sua avventura in poi. Sì, 95% di incremento dei ricavi commerciali e anche 75% di crescita dei ricavi totali, se prendiamo le ultime sette stagioni col picco della stagione 16-17. C'è stato poi un decremento nella stagione 17-18 derivante dal fatto che l'Arsenal non aveva partecipato alla Champions League e questo ha avuto un impatto piuttosto importante. Tu ti chiederai, anzi si chiederà una casa perché tu già lo sai, come mai sono in rosso alcune stagioni 12-13, 13-14-15-16 perché sono le stagioni in cui l'Arsenal ha vinto un trofeo, ha vinto l'FA Cup, non ha vinto la Premier sotto l'era Gazzidis, però qualcosa insomma fra virgolette ha portato a casa, probabilmente non quello che i tifosi avrebbero sognato all'inizio della stagione, però è comunque un riconoscimento importante, al di là della qualificazione o meno in Champions. Sì, direi che nei nove anni di Gazzidis c'è stata una crescita notevole a livello economico finanziario, però a livello di vittorie hanno vinto tre FA Cup e tre Community Shield. Io non so se i tifosi del Milan sarebbero contenti di vedere un miglioramento del bilancio però vincere solo tre volte la Coppa Italia. Questo è vero, altrettanto vero che forse Elliot conviene riuscire a mettere a posto il bilancio, soprattutto con i ricavi commerciali, perché questi erano i ricavi totali, siete andati a scorporare i ricavi commerciali e qui arriviamo a quel famoso 95% di cui parlavamo a inizio puntata, perché nel corso degli anni, negli anni in cui Gazzidis ha fatto l'amministratore delegato all'Arsenal, si è passati dai 62 milioni di euro della prima stagione, 11-12, fino al 121, quindi appunto il doppio, nell'ultima stagione in cui Gazzidis era amministratore delegato, addirittura con picchi più alti Andrea. Sì, c'è stato un picco a 143 milioni, ma siccome noi riportiamo i valori in euro c'è da considerare poi la svalutazione della sterlina, diciamo dopo il referendum di Brexit che si vede subito nel bilancio 16-17, il bilancio 17-18 invece è stato influenzato come già detto precedentemente dal fatto che l'Arsenal non ha partecipato alla UEFA Champions League. Abbiamo fatto anche una grafica con i profitti dopo le tasse, cosa significa e perché cambiano rispetto a quelli precedenti? E qui veramente si vede la grandissima differenza, in un certo senso anche tra il calcio inglese e il calcio italiano, che non dobbiamo dimenticare è anche stato favorito da una crescita notevolissima dei diritti televisivi. Però se prendiamo queste sei stagioni in cui Gazzidis è stata all'Arsenal, il totale dei profitti dopo il pagamento delle imposte è 120 milioni, quindi una media di 20 milioni di euro all'anno, che è un valore veramente enorme a livello europeo. L'altra grande strada che può percorrere Elliot, che può percorrere il Milan e che quindi può percorrere anche Gazzidis, è ricavo da stadio. Tema di attualità, anche la partnership con l'Inter per gestire interamente o San Siro o un altro stadio interamente, questi sono i ricavi da stadio dell'Arsenal nelle ultime tre stagioni. Con l'ultima dove si è vinto all'FA Cup, c'è stato un leggero decremento dovuto a? Ancora, impatto della sterlina 16-17 e non partecipazione alla Champions League nella stagione 17-18 e di conseguenza meno partite giocate e partite che vengono vendute ad un prezzo più alto. Teniamo presente che l'Emirates è uno degli stadi più profittevoli d'Europa e con un tasso di occupazione del 99% praticamente da quando è stato aperto. C'è anche la rendita per seggiolino, che anche qui è stata decrescendo credo per gli stessi motivi che hai appena esposto, 82 euro nella stagione 15-16 fino a scendere a 62 nell'ultima stagione, tanto per dare un riferimento, la Juventus per ogni seggiolino guadagna 52 euro, correggimi se sbaglio, il Manchester più o meno come l'Arsenal. Il Manchester è intorno al 61 e diciamo che c'è anche qui un decremento derivante dalla svalutazione della sterlina, ma c'è anche un effetto Londra, anche se tu vai a vedere i dati del Chelsea, i dati del Tottenham, i valori sono altissimi. C'è anche direi una componente di turismo calcistico, gente che va a Londra solo per vedere queste partite, i prezzi sono molto inflazionati. Giusto per fare un riferimento, visto che entreremo adesso nel raffronto, il ricavo a seggiolino del Milan in questo periodo quant'è? Siamo intorno ai 15 euro. Quindi c'è un ampio margine. Un gap enorme. A proposito di Milan, cerchiamo di capire che situazione ha ereditato in questa sua avventura Elliot e quindi la nuova dirigenza rossonera. Questa è la situazione finanziaria, un overview degli ultimi sette anni del Milan con un ricavo Total Operating Revenue importante, anche se inferiore rispetto alla stagione 11-12, ma credo che quello che interessi di più una società sia la parte in rosso, ovvero le perdite. Le perdite. Allora, vediamo che in blu praticamente c'è stato un decremento dei ricavi da 268 milioni a 214 milioni nell'ultima stagione di Yongli, ma come possiamo vedere la barra rossa dimostra le perdite. Mentre dicevamo che negli ultimi sei anni l'Arsenal ha accumulato 120 milioni di profitti, il Milan ha accumulato 477 milioni di perdite. Quindi eredita una situazione veramente pesante. Le leve come abbiamo visto ci sono e come abbiamo visto anche lo stadio, prima facevamo riferimento alla possibilità del gap che c'è in questo momento fra l'Emirates e San Siro, l'abbiamo voluto mettere in grafica rispetto a alcuni dati. Quindi il match day c'è quanto si guadagna ogni giorno per ogni singola persona che va allo stadio. Prima il discorso era relativo soltanto al seggiolino, non c'è solo il seggiolino allo stadio, credo che gli stadi inglesi ce lo dimostrino. Assolutamente, c'è tutta una componente di merchandising, c'è tutta una componente di catering che è fondamentale e di posti VIP e di hospitality. Qua ci sono dei dati veramente importanti che dovrebbero fare riflettere chi ancora dubita sulla necessità di costruire uno stadio che, come si dice in inglese, è un no-brainer in questo caso. Partiamo dai ricavi per seggiolino. 15 euro il Milan, 62 l'Arsenal, che è scesa dagli 81 di tre anni fa. Come hai detto tu, anche in termini di paragone nazionale la Juventus è a 51. Percentuale di utilizzo, 99 contro 66 e già il Milan ha aumentato la stagione precedente perché era al 50% e se poi prendiamo il totale di ricavi da stadio, nonostante il decremento dell'Arsenal, siamo a 35 contro 112, che quindi è un terzo. Quindi, insomma, l'operatività per la società Milan, ma per tutte le società italiane in generale, è sicuramente molto ampia, considerando che poi la Premier ha avuto una stabilità negli ultimi anni sotto questo aspetto che ha portato poi le squadre inglesi ad essere sicuramente più competitive. L'altro grande ramo, ne abbiamo appena parlato, è il ramo commerciale, quindi, posto che sul discorso stadio c'è un buon margine, può esserci anche nel settore commercial? Sì, direi di sì, anche se però... Prendendo anche il brand Milan? Allora, il brand Milan è un brand che ha un valore internazionale enorme. Per chi gira per il mondo, quante volte trovi ancora dei ragazzini che indossano la maglia del Milan? Magari ragazzini che sono già diventati piuttosto adulti ora, perché i risultati diciamo internazionali sono un po' datati, però vediamo che comunque tutto sommato il gap non è così enorme come con altre fonti di ricave. Indubbiamente però vediamo che il Milan ha avuto un decremento anche perché c'è stato la fine di un accordo un po' speciale che loro avevano con in fronte. Però il Milan, nel momento in cui dovesse ritornare a vincere, e tutti ce lo auguriamo per il bene del calcio italiano, indubbiamente avrà una potenzialità di crescita dei ricavi notevolissima. L'ultima considerazione, l'ultimo dato che ci hai portato è quello relativo al valore d'impresa, che è un dato che studiate voi di KBMG con un report annuale molto importante sempre prima della finale di Champions. Qui insomma Andrea mi viene da dire, guardando i numeri, che il gap è molto ampio. Sì, non solo il gap è molto ampio. Noi praticamente valutiamo l'Arsenal al 1 gennaio 2018, l'ultimo report che abbiamo fatto quattro volte più del Milan. Ma il Milan, nonostante ciò che è stato riportato dalla stampa, noi rimaniamo dell'opinione che vale intorno ai 550 milioni. Però l'Arsenal è aumentato il proprio valore d'impresa del 25%, passando dal 1,6 miliardi ai 2,1 miliardi. E questo indubbiamente è stato anche un risultato derivante dal contributo di Gazzidis, ma anche, ripeto, dalla crescita dei diritti televisivi della Premier. In questo, e torniamo quindi alla considerazione che abbiamo fatto ad inizio puntata, non hanno pesato molto i mancati successi dell'Arsenal, sia in campo nazionale che internazionale. Comunque la crescita del club mi pare evidente che ci sia stata, a prescindere dal campo. È vero che il campo ha la sua importanza, il piazzamento in Champions e partecipare alla Champions League è decisamente importante, anche per il flusso di denaro che porta. Però una società virtuosa si può costruire anche senza dover per forza o necessariamente alzare un trofeo o per il Milan diventa importante, necessario, quasi vitale? Guarda, se noi vediamo i risultati delle squadre inglesi e solo una può vincere la Champions League, se non la vince una squadra di qualche altro paese e solo una può vincere la Premier League, abbiamo sei squadre tra le top 10 a livello di valore d'impresa. Quindi ormai non siamo più, non si tratta più semplicemente di società sportive, ma si tratta di società di entertainment e delle vere e proprie aziende. Grazie allora Andrea Sartori per averci chiarito le possibilità che può avere il Milan di crescita, naturalmente anche le altre squadre italiane, siamo voluti concentrare su chi ha cambiato il management da poco, l'appuntamento naturalmente con Football Benchmark e alla prossima settimana. Grazie.